Cari amici, anche questa giornata volge al termine. Prima di andare a dormire ci ritroviamo con il nostro appuntamento quotidiano con Che nome scegliere. Ho visto che ci sono già moltissime visualizzazioni e questo mi fa veramente veramente molto piacere. Oggi iniziamo parlando di Sara. Sara deriva dall'ebraico Sara e significa signora, principessa. Nel meridione italiano può essere una forma briata di rosaria. L'onomostico si festeggia tradizionalmente il 9 ottobre. Passiamo alle caratteristiche. Sara unendole riservata è tranquilla, è molto paziente, è divertente, ma è bene non farla arrabbiare. Puntuale e precisa, esegue diligentemente ciò che le viene richiesto ed è sempre pronta ad aiutare gli altri. Ma il meglio di sé lo dà nell'attività a contatto con il pubblico. È una donna che ha coraggio, che è audacia da vendere e questa audacia la dimostra a partire dal suo aspetto. Sempre curatissima, non esce mai struccata o in ciabatte. Per lei si addonne sempre, anche a casa, anche per andare a portare il cane, anche per andare a prendere il latte sotto casa. Sara ama il piacere a se stessa e soprattutto ama il piacere agli altri. Ma non è mai... e questo comporta il fatto che lei non è molto fedele e segue sempre il suo istinto ed i suoi sentimenti, a volte sbagliando. La fecondità, perseveranza e speranza sono i tratti principali della sua personalità. Volta alla conoscenza e al rinnovamento, la sua vita è una continua sperimentazione, il che la può rendere però un po' inconcludente. La sua passione sono i bambini, di cui ama circondarsi e ai quali non rinuncerebbe per nulla al mondo. Una mamma perfetta, insomma. Peccato che si decide a farli troppo tardi. Il significato quindi, ricapitolando, è principessa, signora, l'onomastico è il 20 aprile, l'origine è ebraica, il segno corrispondente, quindi il segno del partner ottimale è il leone, il numero fortumanato è il 2, il colore è rosso e passiamo al nome di Silvia. Questo nome deriva dal latino silvius, tratto da silva, cioè selva, bosco e significa che vive nei boschi, che viene da zone buscose, che ama vivere nei boschi, attestato a partire dall'età repubblicana. È un nome abbastanza classico, molto diffuso in tutta Italia. L'onomastico si festeggia tradizionalmente il 3 novembre e chi porta questo nome ha un carattere riflessivo, pacato, tranquillo. Silvia è un'amante della natura, infatti passa la sua vita a prendersi cura del suo giardino oppure del suo boschetto, tra il cinquettio degli uccelli e seguendo il ritmo delle stagioni. È una persona meditativa, portata per gli studi filosofici, ma anche per piccoli lavori manuali. È una donna tenace e riservata che tende ad aprirsi solo con pochissime persone, molto leale e istintiva. Silvia è molto legata alle proprie abitudini di vita e soprattutto alla famiglia e tra i suoi pregi risulta essere molto molto fedele con il partner. Quindi partner di Silvia ritenetevi molto fortunati. Il significato è abitante del bosco, l'onomastico è il 3 novembre, l'origine è latina, il segno corrispondente a livello di partner è l'acquario, il numero fortunato è l'otto e il colore è il bianco. Passiamo adesso all'ultimo nome di oggi che è Simone. Il nome Simone deriva dall'aramaico Shimeon che letteralmente significa Dio ha ascoltato la tua preghiera. Simone è una persona tenera e bisognosa di affetto, trascinata dalle utopie. Simone è un uomo inadeguato a vivere nella realtà e questa sua difficoltà lo rende piuttosto affascinante. Le donne infatti non mancano a Simone e saziano quel suo bisogno di calore umano che la troppa meditazione solitaria e la consapevolezza di non riuscire a concretizzare i propri sogni gli consumano. Ha spirito d'arguzia, amore per l'arte, ha una forte inclinazione alla scienza e dedizione allo sport. Insomma, in tutto quello che fa ci mette l'animo. Le caratteristiche principali quindi sono il fatto che è una persona energica, che è piena di vita, di entusiasmo e tuttavia spesso la sua eccessiva allegria lo porta a farsi trascinare dal volere degli altri. Stringe rapporti e amicizie facilmente e rimane sempre legato alla famiglia dove si rifugge e cerca sostegno nei momenti più bui. Ricapitolando, il significato è Dio ha ascoltato, l'onomastico è il 28 ottobre, l'origine è ebraica, il segno del partner corrispondente è il cancro, il numero fortunato è l'uno, il colore il blu e la pietra è lo zaffiro. Cari amici, non mi resta che augurarvi buonanotte, buon fine settimana e noi ci rivediamo lunedì sempre alla stessa ora con che nome scegliere.